I cittadini che non possono allontanarsi da casa perché in condizioni di grave infermità potranno esercitare il voto domiciliare in occasione delle elezioni fissate per il prossimo 25 settembre. Naturalmente si tratta di persone in condizioni davvero gravi che non possono nemmeno essere accompagnati al seggio elettorale tramite il servizio previsto dai comuni per i portatori di handicap. Gli elettori che hanno necessità di votare da casa propria dovranno inviare al sindaco una dichiarazione di esprimere il voto dall'abitazione in cui dimorano nel periodo compreso tra martedì 16 agosto e lunedì 5 settembre di quest'anno quindi tra il 40esimo e il 20esimo giorno prima delle ormai imminenti elezioni. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e deve essere corredata di copia della tessera elettorale della certificazione sanitaria idonea rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale laddove possibile meglio anche indicare un recapito telefonico.